I cavallotti sono stati distanziati ma le bici non si fermano. La bufera che si era scatenata sui social network per via di questa foto alla fine si è risolta. Ma il problema delle bici che transitano nel marciapiede del sottopassaggio di via Vittorio Veneto ad Arezzo è davvero risolto? I cavallotti che fino a poche ore fa ostruivano il passaggio di alcuni modelli di carrozzina per disabili e passeggini ora sono stati spostati. Da un metro e venti di distanza l'uno dall'altro sono stati portati ad un metro e mezzo. L'assessore Gianfrancesco Gamurrini ha anche incontrato di persona la signora Alba Coradeschi protagonista inconsapevole della foto e della bufera. I cavallotti sono stati messi però per impedire che le bici sfreccino a tutta velocità in questo tratto di marciapiede e mentre i ciclisti nelle ore precedenti quasi tutti scendevano dalla bici oggi pare proprio di no. Speriamo che perlomeno questa sorta di gincana serva a limitare la loro velocità altrimenti avremmo fatto come si suol dire molto rumore per nulla.